Signori, nuovo aggiornamento 14.40, se non sbaglio, ma non mi interessa più di tanto, di Fortnite, nel quale hanno aggiunto le cose di Halloween, quindi in questo video assurdo, andiamo a scoprire tutti i segreti, tutte le peggio cose, tutte le piccole chicche che hanno aggiunto, ovviamente speriamo anche di vincere, nel dubbio invito a lasciare un mi piace e un commento, condividete il video a tutti i vostri amici, tutti i parenti, tutti quelli che conoscete, e iniziamo. Oh, partiamo già con il fiatone, però finirà malissimo, malissimo, con quale faccia me lo sta dicendo? Signori, benvenuti in Fortnite, link up, uh, hanno cambiato anche la schermata, ok, allora, c'è la modalità singola, no, ma io vi giuro, io vi giuro, io l'ho fatta in tutte le modalità di Halloween di Fortnite, e mi ha fatto tutte vomitare, mi fa totalmente schifo, però cosa c'è nel negozio oggetti? Vediamo se c'è qualcosa di interesting, da sciop... Se c'è qualcosa da scioppare, parrebbe di, ah, ok, c'era il teschio, vabbè, ma no, sapete, non è che mi entusiasmi molto come modalità, perché c'è la nebbia, mi ricorda Milano, ci sono gli zombie, mi ricorda Milano la mattina, vabbè, ma comunque alla fine, c'è la, è la Milano mode, no? Non ho ancora visto niente, zero, né trailer, né niente, vediamo se questa modalità è migliore o peggiore rispetto alle altre, ma per ora mi sembra una cagata totale, ma poi è cambiato qualcosa, ah, il centro, sì, chiaramente andiamo al centro, ci scoppieranno malamente, ma andiamo al centro, e che carino il fantasmino, non, vabbè, zero secondi e si può, ah, lo sapevo, lo sapevo, aerei ci sono? Casi, le mie orecchie poi divento sorda a vent'anni, e andiamo al centro, perfetto, ci sarà Mida, ci saranno i fantasmi, i scheletri, i zombie, tutto quello che hanno voluto mettere, e questa musica, la prima volta che la senti, dici, ah, che carina, la seconda dici, mh, ok, la terza dici, ti prego, basta, non voglio mai più giocare, detto ciò, ci vediamo all'atterraggio. Ma no, quanta gente, c'ha il lanciarazzi, no, sei un ciccione sgravato, c'ha il lanciarazzi, oddio, ti spara con il lanciarazzi, no, che sgravo, che sgravo, no, raga, non voglio che tutti abbiano il lanciarazzi, muori va, no, sgravati, no, no, raga, è sgravatissimo, sta cosa è sgravatissima, quante volte ho detto sgravato in due, ah, 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 scappa, Ok, qua c'è già entrato qualcuno, chiaramente, ti tiro un razzo in testa, no, ve lo dico tranquillamente, non sento niente, ed è pieno di nemici, quindi molto male, non so dove siano, c'è troppo casino, troppo casino, sì, poi vabbè, io che parlo, è anche quello un bel casino, però, eh, troppo casino, allora, lanciarazzi sarà il nostro pompa, e speriamo di trovare qualcosa di interessante, qua c'è un tizio, palesemente, ah, ah, no, 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 eh, non volevo lanciargli il lanciarazzi, se no mi suicidavo, oddio, che succede, amici di youtube, cosa sta, ok, uniscita all'armata delle ombre di mida ed è la caccia dei superstiti, figo, allora, L1, R2, figo, allora, R2, è tipo Wolverine, L2 è lo scatto, tipo la pietrina, L1, non so cosa faccia, non ne idea, e la X salti, figo, e quanto c'ho? 100 di vita, ok, posso costruire, beh, no, non posso prendere niente, semplicemente mi fa vedere dove sono i soci, ok, figo, ah, lui è un socio, buono, 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 siamo tutti cadaveri, ok, quindi io volendo potrei rimanere così tutto il tempo, ma dai, e questo lo posso uccidere, Eh, sì, e se lo uccido torni, no, vediamo, vediamo, no, ok, devo uccidere per forza una persona, guarda quanti che siamo, madò, sì, ma raga, cazzo mene, io mi faccio tutta la partita così, guarda come cammina storto, guarda, poi ti viene il mal di schiena se cammini così storto, lì c'è un tipo, ok, allora, voglio pushare quello, l'anchillato, madò, un'ombra che nuota non si è mai vista nella vita, ma, ok, ti stiamo venendo a prendere, guarda, guarda gli spettrici, madò, 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 Lo spettro che guida, l'ha ucciso il tizio, una scopa mitica, ma cosa mi stai dicendo, amici, cosa, niente, niente, alla fine, alla fine, alla fine, la macchina degli spettri, ok, allora, secondo me lo spettro fa schifo perché fa 25 di danno, però, nella macchina non è per niente male, abbiamo switchato veicolo, dai che ci sono qua i soci, guardalo qua, investilo, 157? Ok, vai, uccidilo, ok, FK, scemo, e ora? Come faccio a tornare in vita? Non sto capendo, allora, uno, cos'è il salta e balza? Due, perché non mi fa tornare in vita? E qui c'è un altro tizio FK, stupido, stupido che ti vengo a prendere, stupidissimo, cosa credevi? No, 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 scherzo, 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 no, non mi uccidere, scherzavo, va bene, me ne vado, va bene, me ne vado, ciao, hai vinto tu, per ora, comunque investire col camion è una figata Che figo che puoi mangiare gli oggetti, però Beb, beb, ma da fucka, beb, beb Diece, so che sei dezona Guardalo lì, guardalo lì Vado, ti stiam venendo a prendere me and the boys Io e i bo, guardalo Dai che sei una pippa Fai schifo No, mi ha ucciso, mi ha palesemente ucciso, rip, è stato un onore Ok Vabbè, io mi prendo il camion, vado a fare benzina come spettro Oh, c'è lì un tipo Ok, lo voglio investire Sei la mia cacchio di preda Sei la mia preda, boy Il brutto è che non c'è la crew, però tu sei la mia preda sotto Madò, madò Madò, non ho paura di niente col camion Madò, raga Di niente c'ho paura col camion Dai vie, c'è Dai vie Sì, sì, pensi che un murettino mi possa fermare È STUPIDO E ora come faccio a tornare in vita? Non posso Ma io non posso tornare in vita, amici? Scrivetemelo nei commenti E il falò, soprattutto, funziona o mi brucia? Vediamo se funziona O se mi brucia No, mi brucia un fantasma Ok, va bene Vabbè, oh Io mi riprendo il camion Faccio benzina E ci vediamo appena faccio benzina Comunque Dove sei il camion? Oh, c'è qua un idiota Cosa credi di fare, stupido? Aspetta che prendo il che Stai buono lì, eh Stai un attimo lì Che sto arrivando col camion degli spettro Madonna, guarda che non ha paura di niente Di niente c'ha paura Devi scoppiare Mayday, mayday Camion ha battuto, camion ha battuto Beh, prendo l'altro Guarda come scappa Guardalo lì Cioè, guardalo un parolone Ma guardalo lì Addio No Devi morire Sì, sì, 26 può andare Vai, ti prendo con la... In testa ti prendo Sotto Sotto No 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 Ti sta andando benissimo No, camion No No Sono giovane No, sono ancora giovane per schiappare No Sono un buon fantasma Non ho mai sbagliato niente nella mia vita Vita Tra virgolette Dai, quello lì è una pippa Ma si sta salvando a caso Ok, mangia tutto Mangia tutto Mangia tutto Bene Allora Mi recupero questa vitellina Vitellina Allora Vabbè, facciamo che andiamo a pushare Andiamo con i boys Perché? Mi serve la squad Quello lì era strascarso Ah, mi sa che è scoppiato Sì, mi sa che è scoppiato un botto Ah, se mangi le bende ti danno di più di vita Figo Questa è una cosa intelligente No, i fantasmi non hanno la musica Che razzi... Questo, signori, è razzismo Dai Ma che cacchio, eh Dovete darla tutti la musica E qui C'è roba da mangiare Guardalo lì Ti ho visto Ti ho visto Ti ho visto Ti ho stravisto Vai, che ti vengo a investire Però sto finendo il carburante Ma ci provo lo stesso Madonna, ma siamo fortissimi Siamo un esercito Ma scusate, se vinciamo? Perché se uccidiamo anche quei quattro lì Cosa succede? Vengo anch'io Prendimi su, bro Guarda i soci Guarda che sono invisibile Eh, niente Eh, è andata Va bene I peggio autoscontri Fantasma nel rift Signori, avete mai visto un rift prendere un fantasma Cioè, un fantasma Ah, vabbè, non ti capisco Che figo No, che No, che figo Che figo Amici Ma dove di tutto? Cioè, anche prima vedevi tutto Ma adesso vedi tutto, tanto tutto Vai a usare l'L1? No, non me lo fa fare Figo Non è che muoio mi schia A me No Ne manca uno No, non c'evo Vabbè, livello 60, ok Non ci avevo fatto caso Ne manca uno Eh, allora andiamo a pestarlo Andiamo a pestarlo malamente Ma dai Cosa scappi? Vogliamo ucciderti Cioè, nel senso Vogliamo Vogliamo solo parlarti E poi ucciderti Eccolo lì Eccolo Stupido Stupido Andiamo, boys Accerchiamolo Accerchiamolo Madò, che sberle Madò, non ci ha capito niente Non ci sta capendo niente Niente ci sta capendo Voglio tiraglielo anche un colpo Egnè Incubo reale Ah Figo Guarda come se la trappa Ok Ok Signori Torniamo alla lobby Con una vittoria O meglio Un incubo reale Mi tolgo le cuffie Come alla fine di ogni video E devo ammettere che È carino Alla terza partita di stufi Ma è carino Spero che questo video vi sia piaciuto Fatemi tra l'altro sapere Se si può tornare in vita Ma non credo come fantasmi Vi ringrazio ovviamente per la visione Vi do appuntamento domani Domani Alla solita ora Ovvero l'1.45 Con un nuovo video Ciao